Elon Musk, uno dei visionari più influenti del nostro tempo, ha lasciato un'impronta indelebile nel settore tecnologico e spaziale, ma dietro il suo successo straordinario si nasconde una storia di infanzia difficile e sfide personali che hanno contribuito a forgiare il suo carattere tenace, determinato e anche un po' pazzo. In questo video esploreremo l'incredibile storia di Elon Musk, quindi mettetevi comodi. Ciao, io sono Simone e questo è Business Lab. Prima di iniziare con il video vedo che ancora non sei iscritto al canale. Se ti piacciono i nostri contenuti, iscriviti al canale così da supportare la realizzazione di video sempre di maggiore qualità. Per te non cambia nulla, ma per noi fa una grande differenza. Ora, torniamo al video. La storia di Elon Musk ha inizio il 28 giugno 1971 a Pretoria, in Sudafrica. Sua madre, di origine canadese, aveva un passato da modella, ma poi si è reinventata come nutrizionista. Suo padre, Errol Musk, era sudafricano, ingegnere meccanico, promotore immobiliare e possedeva una miniera di smeraldi, in Zambia. Con suo padre, Elon iniziò a svolgere i primi compiti manuali, fabbricando oggetti e prestando attenzione soprattutto ai dettagli e sporcandosi le mani. Fu proprio a Pretoria che Elon crebbe e forgiò le sue prime armi. È importante dire che Elon Musk non fu un ottimo studente, inoltre era persino piuttosto timido e non era per niente sportivo. Per via della sua timidezza e del suo aspetto magrolino, Musk era un soggetto preso di mira dai bulli a scuola. La sua intelligenza e la sua passione per la tecnologia lo facevano apparire diverso dagli altri ragazzi, e ciò gli procurava non pochi problemi. Dagli anni 50 in Sudafrica si era sviluppata una politica di segregazione etnica, che prevedeva l'istituzione di zone appositamente riservate ai bianchi e altre zone riservate ai neri. Elon Musk quindi crebbe nell'universo degli africaner, i bianchi sudafricani, che spesso crescevano i loro figli in un ambiente violento e duro. Il suo carattere era in qualche modo in contrasto con quello che ci si poteva aspettare da un giovane ragazzo dell'epoca, soprattutto considerando che era affetto dalla sindrome di Asperger, una forma di autismo senza deficit intellettivo né ritardo nel linguaggio, come rivelò lui stesso in seguito in un'intervista. Il giovane Elon, solitario e molto dubbioso, si immerse in universi lontani dalla realtà, per sentirsi davvero a suo agio. Leggeva fumetti sullo spazio e libri come Il Signore degli Anelli, ad esempio. Elon sognava di partire, andare molto lontano, ma c'era una persona con cui piaceva passare del tempo, suo fratello minore, Kimball Musk. I due piccoli erano molto legati, si capivano e avevano quasi gli stessi desideri. C'era anche Tosca, la sorellina nata nel 1974, che spesso giocava con i suoi fratelli maggiori. Così Elon, Kimball e Tosca crebbero una famiglia unita fino a quando un evento scoinvolse il loro equilibrio. Nel 1981, i loro genitori divorziarono e i bambini andarono a vivere con la mamma. Molto presto, però, Elon decise di andare a vivere con il padre Errol. Fu l'inizio di un periodo molto difficile. Infatti, come ha raccontato lo stesso Elon, da suo padre subì violenze fisiche e psicologiche. In quell'atmosfera difficile, Elon trovò una sorta di rifugio nella letteratura, nell'apprendimento e nella sua immaginazione. Sviluppò una forte passione per la scienza, per l'esplorazione spaziale e soprattutto per la tecnologia. In quegli anni, Musk, passando molto tempo al computer, iniziò a studiare la programmazione e a soli 12 anni sviluppò un videogioco, chiamato Blastar. Blastar era un videogioco dove il giocatore controllava una navicella spaziale e doveva affrontare nemici alieni, evitare proiettili nemici e raccogliere bonus e power-up per migliorare le proprie capacità di combattimento. Il gioco presentava una grafica semplice, ma accattivante, con colori vivaci e una colonna sonora coinvolgente. Blastar però fu poi acquistato dalla rivista PC & Office Technology per 500 dollari. Se volete giocarci, potete andare su questo sito. Nel 1988, all'età di 17 anni, Elon si trasferì in Canada per evitare il servizio militare obbligatorio in Sudafrica. Successivamente si trasferì negli Stati Uniti per frequentare la Stanford University, ma la lasciò dopo poco tempo per seguire le sue ambizioni imprenditoriali. Nel 1995, insieme a suo fratello Kimball, Elon fondò la Zip2 Corporation, un'azienda che forniva soluzioni di software per i giornali. La società ottenne un grande successo e venne successivamente venduta nel 1999 a Compaq per circa 300 milioni di dollari. Dopo la vendita di Zip2, Elon Musk fondò X.com, una società di servizi finanziari online che poi nel 2000 venne acquistata da Confinity e la società venne ribattezzata PayPal. Ma Musk restò comunque nella società. Sotto la guida di Musk, PayPal divenne una delle principali piattaforme di pagamento online. Però nel 2000 venne venduta da PayPal per 1,5 miliardi di dollari. Dopo la vendita di PayPal, Elon Musk si concentrò su nuovi progetti ambiziosi nel settore spaziale e dell'energia. Nel 2002 fondò SpaceX, un'azienda aereo spaziale, con l'obiettivo di ridurre i costi dei viaggi spaziali e rendere possibile la colonizzazione di Marte. SpaceX ha raggiunto importanti traguardi, come il lancio del razzo Falcon 1 nel 2008 e il successo delle missioni di rifornimento verso la stazione spaziale internazionale. Parallelamente, Elon Musk divenne anche un sostenitore dell'energia sostenibile e cofondò Tesla Motors nel 2003, un'azienda automobilistica che produce veicoli elettrici. Tesla ha rivoluzionato l'industria automobilistica, con modelli come la Tesla Roadster, la Model S, la Model 3 e la Model X, guadagnando un'ambia popolarità e contribuendo alla transizione verso una guida più sostenibile per l'ambiente. Oltre a SpaceX e Tesla, Elon Musk fu coinvolto in diversi altri progetti innovativi, come SolarCity, un'azienda di energia solare, Neuralink, un'azienda che sviluppa interfacce neurali impiantabili, e The Boring Company, un'azienda specializzata in tunnel sotterranei per il trasporto. Elon Musk è diventato noto per la sua visione audace e il suo atteggiamento imprenditoriale, che lo ha reso una delle figure più influenti e discusse nel settore tecnologico. Le sue idee e i suoi progetti spaziali, automobilistici ed energetici hanno l'obiettivo di trasformare le industrie e contribuire ad un futuro sempre più sostenibile. Nel corso degli anni Elon Musk ha continuato a realizzare importanti traguardi con le sue aziende. Ad esempio SpaceX ha sviluppato il razzo Falcon Heavy, il razzo più potente attualmente in servizio. Inoltre ha sviluppato anche un sistema di lancio riutilizzabile, chiamato Starship. Nel 2020 SpaceX ha lanciato con successo i primi astronauti NASA verso la Stazione Spaziale Internazionale, segnando un importante passo in avanti per il sottore privato dell'esplorazione spaziale. Nel frattempo Tesla Motors continua a crescere e a dominare il mercato dei veicoli elettrici. L'azienda ha introdotto nuovi modelli di auto e ha sviluppato una vasta rete di stazioni di ricarica rapida, rendendo sempre più praticabile l'adozione di veicoli elettrici su larga scala. Tesla ha anche segnato incredibili progressi nell'ambito della tecnologia della guida autonoma, puntando ad una flotta di veicoli completamente autonomi. Al di là delle sue attività imprenditoriali, Elon Musk è stato coinvolto anche in molte iniziative filantropiche. Infatti ha promesso di donare gran parte del suo patrimonio per affrontare questioni come il cambiamento climatico e l'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Elon Musk ha guadagnato una posizione di grande influenza nel mondo degli affari e della tecnologia. Le sue dichiarazioni pubbliche e le sue azioni imprenditoriali sono spesso oggetto di dibattito, ma non si può negare che ha avuto un impatto significativo nell'accelerazione dell'innovazione tecnologica e spingere l'umanità verso un futuro più sostenibile e chissà in un futuro anche multiplanetario. Siamo arrivati alla fine del video e spero che il video ti sia piaciuto. Se così è stato lascia un like per farcelo sapere e iscriviti per non perderti altri contenuti simili. Questo è Business Lab, il business a portata di click. Internet. Sì.